Ciao ragazzi, volevamo salutarvi, però sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza imposte dal decreto. Perché noi facciamo tutto così, perfetto. Mi raccomando, non facete casi perché sanno pedire. Esatto, quindi l'importante ragazzi è la distanza di sicurezza. Soprattutto verso i vecchietti, perché poi sono loro quelli che stanno peggio. Ma noi non ci siamo dimenticati di voi. Infatti stiamo preparando delle sfide per voi. Quindi avrete presto nostre notizie. Ciao!